La 22esima edizione dell'autogiro della provincia di Ragusa entra nel vivo. Dopo l'accoglienza di ieri già, questa mattina i 90 equipaggi si sono messi in moto seguendo l'itinerario tracciato dagli organizzatori del Veteran Car Club Ibleo. A resta di partenza anche numerose autovetture matricolate prima del 1945. Un bel successo quindi per il club che cura con sempre maggiore attenzione gli aspetti organizzativi, tanto da aver ottenuto negli ultimi anni una serie di riconoscimenti dalla rivista La Manovella, vera e propria bibbia per gli appassionati. Questa mattina quindi partenza per Villa Fegotto con visita guidata con la carovana di autovetture che si è spostata poi verso Chiaramonte e quindi Giarratana. Alle 20 cena al Baglio a seguire poi la seconda prova in notturno alla zona industriale, quelle proprie novità per l'autogiro. Domani sabato a portenza da Ragusa per fare tappe a Vittoria con sosta e visita guidata, poi le autovetture sosteranno sempre a Marina di Ragusa, a Lungomare e fino a Piazza Malta fino alle 18. Domenica partenza invece a Permodica dove è previsto una sosta in Corso Alberto e ci sarà anche un incontro per sull'aulo a consigliare a Palazzo San Domenico, oltre ad una cerimonia commemorativa in onore di Gigi Olivari, subito dopo il trasferimento al CIP, retto nel luogo in cui il pilota Sardo ha perso la vita lungo la statale che conduce a Ispiga per la deposizione di una corona di alloro. Alle 13 pranzo e subito dopo la cerimonia di premiazione saranno anche sorteggiati dei premi tra i votanti al concorso di eleganza. Grazie Grazie Grazie